Io ce l'ho un piccolo desiderio per tutti voi che ci abbiamo conosciuto da quando io sono venuto in Italia, già due anni fa. E voi sapete che la parola Natale viene dal latino nativitasis. Nativitasis è una parola che significa che è corrispondente al posto di nascita, ma anche all'ora, il giorno, il tempo della nascita. Per questo si dice anche in italiano Natale, vuol dire la nascita. Ma la nascita sarebbe l'inizio della partecipazione individuale all'esistenza visibile. Vuol dire che Gesù Cristo fu visibile in questo mondo. Perché? Perché era la sua nascita. La sua nascita fu una partecipazione, fu una manifestazione della sua opera in questo mondo. La sua esistenza. Ora, qui c'è una cosa molto interessante, un vincolo, che penso che vi piacerà sentirlo. Ascoltate bene. Lui dice Giovanni, nel suo libro all'inizio. Lui scrive dicendo Ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, vuol dire a Gesù? Ancora, tutti quelli che lo hanno ricevuto, Dio ha dato il diritto di diventare figlio di Dio. Quindi, io, me, divento figlio di Dio, tranne il potere di Dio. Perché? Perché io ho ricevuto a Gesù in vita mia. Un amico qui alla Rufina è venuto a casa mia e mi ha portato un bellissimo regalo di Natale con tre candele su un legno. Io l'ho ricevuto con molto apprezzo. Così noi vogliamo ricevere a Gesù in nostra vita. Dice la Bibbia. Quelli che lo hanno ricevuto, a loro Dio ci ha dato potere di diventare figli di Dio. Quindi, non tutti siamo figli di Dio. Ma in questa festa natalizia, quando siamo in famiglia, comunque dica al governo che io vi invito alla disubbidenza, ora, possiamo noi nascere in Gesù Cristo. La nostra anima, il nostro spirito diventa figlio di Dio. Perché? Perché abbiamo ricevuto a Gesù. E la nostra manifestazione ha l'esistenza visibile. Non nascosta, ma visibile. Per questo Gesù ha detto che cristiani sono la luce, la sale. La gente dovrebbe vedere che noi, cristiani, siamo diversi. Perché? Perché siamo persone chiare, evidenti. Perché siamo figli di Dio. Quindi il mio desiderio sarebbe questo. Ricevete a Gesù. Io vi invito a farlo oggi. Una piccola preghiera con me. Diciamo insieme. Padre nostro, Chiedo perdono per il mio peccato. Apro vita mia a Gesù. A Gesù, oggi, io lo ricevo. E vorrei diventare figlio tuo, tranne il tuo potere. Chiedo questo, e nel tuo nome, Gesù Cristo. Amén. Ora, io vi auguro tanto. Raccontami se hai fatto questa preghiera. E così noi possiamo continuare a camminare, a essere la luce del mondo, la sale della terra. Con Gesù Cristo. E tanti auguri a voi. Ciao. Magre verce.